La protezione civile piange Claudio Giacomelli, volontario del CB Club Mattei da oltre dieci anni, domani i suoi funerati. Sequestro record di stupefacenti a Civitanova Marche, sotto chiave 179 kg di hashish, arrestato un uomo di 63 anni. In arrivo a Fano 100 bici elettriche che si aggiungono ai 200 monopattini a disposizione dei cittadini, venerdì la prova gratuita in piazzale Simonetti, previsti nuovi abbonamenti e sconti legati al trasporto pubblico locale. Possumbrone rivive il rinascimento con il trionfo del Carnevale, arceri, musica, misteri dell'epoca, spettacoli di fuoco e voli di rapaci. Dal 26 al 28 maggio le 11 contrade della città si sfideranno dei giochi tra i rioni per la conquista del Paglio del Cardinale. Dal 25 al 27 maggio torna Fano con Ruggeri, domani a Proda in città l'attore Elio Germano, già interprete del film dedicato a Leopardi, il giovane Favolosi. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Come avete sentito dal nostro sommario, il CB Club Mattei di Fano piange la scomparsa di Claudio Giacomelli, morto a 62 anni a causa di un tumore al colon contro il quale combatteva da diverso tempo. Claudio, ex guardia carceraria, faceva parte dell'Associazione Fanese di Protezione Civile da oltre 10 anni. I suoi funerali verranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa di Cucurano. La partenza dalla camera mortuaria è prevista per le ore 15. La Guardia di Finanza di Ancona ha eseguito a Civitanova Marche uno dei più rilevanti sequestri di sostanze stupefacenti mai operato negli ultimi anni sul territorio marchigiano. I finanzieri infatti hanno arrestato un bosniaco di 63 anni e sequestrato 179 kg di hashish. Le indagini sono scattate dopo aver individuato un furgone a girarsi ad alta velocità lungo le strade di Civitanova. Il conducente del veicolo affiancato dalla pattuglia di finanzieri ha prima ignorato l'alta dei militari e poi, una volta fermata la corsa del mezzo, ha manifestato un evidente stato di ansia e nervosismo che ha ulteriormente insospettito le fiamme gialle. L'uomo nascondeva tra le gambe 7500 euro suddivisi in mazzette di banconote da 50. Inoltre la perquisizione del furgone ha permesso di rinvenire tre documenti di riconoscimento, poi risultati falsi, e quattro borsoni con 330 panetti di sostanza stupefacente. Una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio circa un milione di euro. Il bosniaco è stato portato nel carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torniamo a parlare dell'alluvione. Ad oggi ammontano oltre 11 milioni di euro i danni causati dal maltempo nelle scorse ore, il maltempo che ha colpito in particolare il comune di Pesaro. Di questi più di 3 milioni 400 mila sono le spese per la messa in sicurezza del territorio, mentre 7 milioni 500 mila euro i danni subiti dai privati distribuiti su oltre 170 segnalazioni arrivate all'amministrazione. E questo è il risponso del piano redatto dai tecnici del comune dopo i sopralluoghi di questa mattina con la protezione civile nazionale e regionale. Domani, ha ricordato il sindaco Matteo Ricci, ci sarà il consiglio dei ministri che dovrebbe decidere sullo stato di emergenza per il nord delle Marche e la Toscana. Ieri la premier Meloni si è presa l'impegno di fare un nuovo provvedimento, un provvedimento ad hoc e quindi a detto Ricci attendiamo fiduciosi. A proposito di alluvione, gli Ultras Fanu hanno organizzato una raccolta beni di prima necessità per le zone più colpite della Romagna. Come potete anche leggere da questa locandina, si richiedono principalmente beni elementari confezionati, pannolini, vestiti e coperte, ma anche il materiale per la pulizia e tutto ciò che può servire per togliere il fango, spazzolini e dentifrici, shampoo e bagnoschiuma, cibo per animali. Insomma, sono tante cose che potete vedere in questa lista. I punti di raccolta sono al Bar Giolla San Cristoforo, al Bar Franco a Centinarola, al Pan Market a Bellocchi e alla Crai di Cucurano, vicino alla farmacia. È stata scelta Fanu a livello provinciale per compiere ulteriori passi sul percorso della riforma del terzo settore che in questo momento sta coinvolgendo non poche associazioni di volontariato. Protagonista questa volta è l'Auser Marche che si sta impegnando sul ruolo di fare da tranno per collegare i diversi enti no profit. A questo proposito è stata presentata una importante iniziativa che si svolgerà il 31 maggio al Cinema Amasetti, ma sentiamo i dettagli nelle interviste che ha realizzato Massimo Foghetti. Sono stati presentati al Don Orione due eventi che avranno luogo il 31 maggio al mattino e al pomeriggio. Si tratta di un evento a conclusione di lungo percorso compiuto dall'Auser Marche in merito a tutte le trasformazioni che sta subendo il terzo settore per quanto riguarda la nuova legislazione. Soprattutto si tratta di istituire un percorso in rete, quindi unire tutte le associazioni per mettere insieme progetti, risorse e desideri. Ci parli di queste due iniziative che si svolgono il 31 maggio. Sono iniziative che concludono un percorso iniziato a giugno dell'anno scorso all'interno di un progetto regionale Viridee, Visione Resilienza Idee, che è finanziato da Regione Marche con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo scopo di costruire competenze per il terzo settore e rendere il terzo settore sempre più resiliente capace di affrontare le sfide adulti, bambini, anziani, con problemi di fragilità, ma anche con bisogni, per esempio, di superare anche purtroppo le conseguenze del Covid. E quali sono allora le associazioni che hanno aderito al patto? Allora, sono le associazioni territoriali di Hauser, Anteas, Acli, Centro di Solidarietà Marche Sud, Lega Ambiente Fano, Labirinto Cooperativa Sociale, Università di Urbino e Accademia delle Belle Arti di Urbino. Nel pomeriggio invece viene organizzato un convegno. Il convegno del pomeriggio è sui patto educativi territoriali. Perché? Perché sempre in questo percorso che cosa abbiamo capito? Che la cosa importante per aiutare i cittadini è aiutarli soprattutto nella loro condizione di povertà educativa, anche analfabetismo di ritorno. Noi come Rete ci proponiamo alle scuole dicendo noi siamo pronti. Noi siamo già in Rete, abbiamo tante cose da offrire. Ecco, noi pensiamo che potremmo essere un grande motore a supporto delle scuole. Le Acli hanno aderito a questo patto con una finalità, quello di mettere assieme le proprie competenze, le proprie reti, anche l'oratorio Don Orione che è un oratorio affiliato alla nostra associazione e metterle a disposizione di un progetto in cui le altre organizzazioni insieme all'Auser che è capofila hanno come obiettivo dell'amministrazione condivisa e come obiettivo dell'applicazione della riforma del terzo settore. È operativa la risonanza magnetica di Urbino, un macchinario ad alto campo e di ultima generazione. Da oltre una settimana è tornato in funzione per effettuare le indagini necessarie ai pazienti ricoverati e agli oncologici presi in carico dallo specialista. Dal 29 maggio inoltre sarà a disposizione di tutta l'utenza. Verranno aperte le agende ambulatoriali a CUP per gli esterni recuperando e riducendo i tempi di attesa delle prestazioni di secondo livello. Cambiamo argomento. Le imprese marchigiane della pesca e dell'acquacoltura fino al prossimo 10 luglio potranno presentare domanda per beneficiare delle compensazioni una tantum per i maggiori costi sostenuti a causa della crisi russa-ucraina. Le risorse a disposizione ammontano circa 670 mila euro. Si tratta, ha spiegato l'assessore Andrea Maria Antonini, di una misura fortemente voluta dall'amministrazione regionale per un settore strategico come quello della pesca che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare ingenti costi dovuti ai rincari dell'energia e dei materiali. Le domande dovranno essere presentate online utilizzando le distinte piattaforme sul sito della regione per pesca e acquacoltura. Da lunedì prossimo a Fano saranno disponibili 100 biciclette elettriche che si andranno ad aggiungere ai monopattini per i quali il comune rinnova la convenzione con la società Bird. Previsti nuovi abbonamenti ma anche sconti legati al trasporto pubblico locale. Siamo pronti a riaccendere la convenzione che lo scorso anno da fine agosto abbiamo portato in città grazie all'installazione di monopattini che poi sono stati resi disponibili a tutti gli utenti. Quest'anno c'è una novità, entreranno in capo 100 biciclette elettriche, quindi oltre i 200 monopattini che appunto saranno a disposizione da lunedì nei vari punti della città e saranno a disposizione proprio perché crediamo fortemente che questa installazione agevola quella che è la mobilità sostenibile, quindi alleggerendo quello che è il traffico, inquinando meno il nostro ambiente, ma sicuramente anche facilitando quella che è l'interconnessione tra città e periferia. Lo dimostrano i dati che abbiamo registrato nel breve tempo dello scorso anno nella sperimentazione appunto che abbiamo fatto da agosto a dicembre con tutte le criticità del caso, ma ci sono grandi possibilità di sviluppo e sicuramente delle tariffe agevoli. Un'altra importante novità di quest'anno rispetto appunto all'utilizzo di questi mezzi leggeri è che la Regione metterà a disposizione delle risorse che possono proprio come dire agevolare l'integrazione al servizio pubblico, nel senso che chi sarà fruttore di questi mezzi poi potrà avere una scontistica aggiuntiva su quello che è il trasporto pubblico. Venerdì per l'occasione vi aspettiamo in piazzale Simonetti dalle 4 alle 5 e mezza perché proprio metteremo a disposizione di chi vorrà essere presente sia dei monopattini che delle bici per provarli, ma la società stessa metterà poi, diciamo, darà un gadget proprio in occasione di questa iniziativa. Bird è felicissima di far ripartire il proprio servizio anche per quest'estate nel comune di Fano, una città nella cui micromobilità crediamo moltissimo, questo è il motivo per cui rispetto all'anno scorso oltre al costo della corsa base saranno disponibili abbonamenti settimanali, bisettimanali, mensili, trimestrali, semestrali e anche annuali, sempre per portare i cittadini di Fano a utilizzare sempre di più i nostri veicoli che non hanno un impatto sul traffico, non hanno un impatto sulle emissioni di CO2. Anche per questo motivo abbiamo previsto una scontistica del 50% per i possessori di TPE di abbonamento al trasporto pubblico locale, uno strumento che anticipa solo di un pochettino lo sforzo che le istituzioni stanno facendo nello stesso senso. Per i giovani fra i 18 e i 35 anni che possiedono la cosiddetta carta giovani nazionale prevista e erogata dalla presenza del Consiglio dei Ministri ci sarà lo sconto del 20% su tutte le cose che faranno. Il servizio è facilissimo da attivare, è sufficiente scaricare da Apple Store o Google Play la nostra applicazione, Bird, creare un account, inserire i dati di una carta e si può partire. Il processo di iscrizione dura meno di 10 secondi e consente anche alla cittadinanza di segnalare eventuali monopattini fuori posto anche se non si utilizzano i nostri veicoli. L'assessore Barbara Brunori ci ha fatto sapere che domani, giovedì 25 e venerdì 26 maggio, si provvederà alla chiusura totale del sottopasso del Vallato dalle 8 e 30 alle ore 18. Vi ricordiamo che sono in corso degli importanti lavori di ristrutturazione, un intervento su cui l'amministrazione ha sanziato 100 mila euro e che andrà oltre a migliorare le condizioni strutturali dell'infrastruttura a garantire maggiore sicurezza agli automobilisti che vi transitano. L'ufficio pastorale Migrantes di Fanno ha organizzato per domani sera, giovedì 25 maggio, la proiezione del docufilm Tantam Basket al Cinema Masetti. Per l'occasione sarà presente il coach Massimo Antonelli. Don Alessandro, l'ufficio Migrantes continua a organizzare iniziative per abbattere le barriere della disuguaglianza sociale. Prossimo e imminente appuntamento è previsto per domani sera al Masetti. Esatto, alle 21 e 15 trasmettiamo il documentario Tantam Basket che narra la storia vera di una squadra di basket che è stata ideata questo progetto dal ex giocatore di basket di serie A, nonché anche nel 1975 giocatore della nazionale di basket italiana, nella zona di Castelvolturno. Una zona particolare perché ha il più alto numero di immigrati e poi siamo anche in una zona dove è molto frequente l'asfruttamento lavorativo, tanti problemi di inclusione sociale, di emarginazione e quindi è un progetto che si pone proprio per dare ai figli degli immigrati la possibilità di, attraverso lo sport, di vivere l'inclusione sociale, soprattutto di poter evitare che possano essere utilizzati, sfruttati, a volte in canali in cui cade chi non si trova in situazioni o regolari dal punto di vista dei documenti oppure visto la difficoltà che si vive in queste zone con alta incidenza anche di criminalità. Sarà presente alla proiezione, al dibattito che seguirà proprio Massimo Antonelli che ha accettato l'invito di essere con noi e con questa iniziativa in Tantan Basket, appunto ideata da lui, ha avuto una storia molto particolare perché dopo che lui ha organizzato la squadra a un certo punto si sono visti negare l'iscrizione al campionato dilettantistico regionale perché la squadra conteneva un numero di giocatori superiore a quello consentito dai regolamenti. Grazie all'interessamento di un politico che sarà intervistato, si vede nel documentario, è stata fatta una norma DOC che porta proprio il nome della squadra Tantan Basket per superare questa difficoltà, cioè che i minori, figli di immigrati, anche se non hanno il permesso di soggiorno, possono essere iscritti nelle società sportive dilettantistiche. E parte di ricavatto sarà devoluto in beneficenza? Sì, proprio alla squadra perché la squadra si regge con le libere largizioni, con le possibilità dello sport, ma c'è anche un'opera di sostegno individuale e comunitario a livello psicologico per i ragazzi che ne hanno bisogno. Questa iniziativa si pone in quel tema che noi come migranti se quest'anno abbiamo voluto toccare, su cui accendere i riflettori, che è il problema degli immigrati, dei figli di immigrati di seconda generazione quindi, nati in Italia, che sono arrivati in Italia piccolissimi e che non hanno la possibilità di accedere con facilità alla cittadinanza. E a Fano è atteso l'arrivo dell'attore Elio Germano in occasione dell'evento Fano con Ruggeri. Proseguono anche quest'anno infatti le iniziative che celebrano l'attore ideale di Luigi Pirandello. Sentiamo i particolari nel servizio che è stato curato da Stefania Schiaroli. Dal 2022 si è avviato il progetto Fano con Ruggero Ruggeri, attore ideale del premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello. La seconda edizione si terrà dal 25 al 27 maggio e avrà un interesse sia sulla figura del più grande interprete italiano del Novecento, nato a Fano nel 1871, sia sulle proposte dei giovani attori e studenti fanesi, in quanto il progetto è caratterizzato da un'attenzione rivolta ai giovani con l'intento di renderli partecipi in opere dove le contaminazioni e le interazioni artistiche, dichiara il curatore del progetto professor Massimo Pugliani, e le sperimentazioni con le nuove tecnologie possano esaltare l'innovazione apportata da Pirandello alla tradizione teatrale. Proprio in questa chiave di lettura di Pirandello, che ha dedicato le sue opere a Ruggero Ruggeri, a cominciare dai sei personaggi in circa d'autore, il programma alternerà momenti storici con grandi registi e attori a eventi spettacolari con mostre e video artistici di giovani videomaker dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. Partecipa con una sua opera al meeting internazionale dal titolo Pirandello Schenè, in programma il 25 maggio, l'attore Elio Germano. Un'opera che Pirandello scrisse appunto con l'idea di farla rappresentare a Ruggeri, come il successivo sei personaggi in cerca d'autore, ma che il nostro Elio Germano ha potuto trovare attraverso un immaginario particolare, cioè l'uso dell'immersione. Cioè gli spettatori, i 150 che metteranno appunto un visore, potranno immergersi all'interno dello spettacolo e vedere con occhi diversi la psicologia dell'attore e trovare quell'interpretazione che Pirandello ha sempre cercato, cioè il mistero dell'anima, la presenza appunto dell'immaginario. Con questa iniziativa naturalmente si ribadisce il grande spazio ai giovani perché i nostri sostenitori vogliono proprio che ci sia questa funzione del premio che va a livello nazionale ma trova nel locale la forza espressiva attraverso anche il teatro scuola dei giovani studenti del liceo artistico Nolfi-Apolloni che appunto faranno ben due rappresentazioni proprio su temi pirandelliani. Fano Corruggeri è stato avviato con un tavolo di coordinamento istituzionale dalla Fondazione Carifano, BCC Fano, Comune di Fano, Fondazione Teatro della Fortuna, RTI Fano Rocca Malatestiana ed è considerato uno degli eventi caratterizzanti la vita culturale non solo della città ma a livello nazionale. Anche la regione Marche sta predisponendo una legge triennale nel nome del grande attore fanese. Invece Fossombrone è pronta a fare un tuffo nel rinascimento con il trionfo del carnivale che torna da venerdì a domenica nelle vie del centro storico. Arcieri, musica, spettacoli di fuoco e voli di rapaci. Oltre mille figuranti sono pronti ad animare le vie del centro storico di Fossombrone per la ventunesima edizione del trionfo del carnevale. L'evento, che torna dal 26 al 28 maggio, prenderà il via venerdì alle ore 18 e 30 con l'apertura delle locande. Il pubblico in queste tre giornate potrà assistere a spettacoli itineranti oppure potrà tuffarsi nel clima rinascimentale delle vie del centro storico poiché potrà ammirare antichi mestieri, oppure i bambini potranno svolgere giochi rinascimentali, oppure ci potrà essere anche l'occasione di poter visitare gli accampamenti rinascimentali. Grazie al gruppo storico della Pandolfaccia di Fano, agli arcieri di Mondavio e ai tamburi e le chiarine di Fossombrone. Sabato alle 14 è prevista la sfilata di Rioni, Vorghi, Villa e Castelli in corso Garibaldi. Alle 15 poi, dopo il saluto degli anziani e il campaccio, inizieranno i giochi storici. Dalle 16 alla mezzanotte sono previsti spettacoli itineranti, cene nelle locande, corteo storico, danze e grandi esibizioni degli acrobati del borgo edito a IAI. La domenica invece si riparte alle 9.30 con il Palio dei Bambini per poi proseguire dalle 14 con la sfilata dei Rioni, giochi storici, spettacoli e la gare questre per la conquista del Palio del Cardinale. Il programma completo è consultabile sul sito e sulle pagine social del trionfo del Carnevale. Ci tengo a ringraziare il Comune di Fossombrone per la proficua e continua collaborazione, la stazione dei Carabinieri di Fossombrone e il comando della Polizia Municipale locale per la continua anche qui collaborazione. Tutti i volontari che ci danno una mano prima, durante e dopo la manifestazione e il direttivo che ho l'onore di presiedere, con il quale stiamo preparando questa manifestazione da diversi mesi. Spero di non aver dimenticato nessuno, qualora così fosse, mi scuso già dopo. Anche quest'anno ci saranno tante persone che daranno vita al centro storico della sua città. Sono stupito e cerco di essere un cittadino che mi immagino sia di un'altra città, che vede per la prima volta uno spettacolo del genere, con l'occhio critico, ma in fondo esco fuori un po' commosso da questo tripudio di energia. Quindi mi rende orgoglioso, poi mi rimedesimo sindaco e sono profondamente orgoglioso di questa comunità. Ed ora parliamo di un progetto innovativo che vede protagonisti, gli alunni della scuola elementare Montesi, che si sono confrontati con l'arte contemporanea. È del tutto originale il progetto che è stato presentato dalla dirigente del circolo didattico di Sant'Orso, Eva Lisa Pettinari. Si chiama Tracce d'arte e intende avvicinare i bambini all'arte contemporanea. Un compito non facile, dato che l'arte contemporanea è piena di simbolismi, non di immediata comprensione, a volte contraddittoria, ma il metodo assunto ha fatto sì che piccoli studenti si avvicinassero alle nuove forme di espressione con naturalezza, aiutati in questo dalle opere e dalla presenza di sei artisti con i quali è stato imbastito un dialogo vivace creativo. Gli artisti sono Anna Tozia To, Francesco Di Otallevi, Nicolo Amadori, Sondra Segala, Tonino Maurizzi e Vito Nucci. Sono state così realizzate delle opere che rimarranno in dotazione della scuola e che verranno esposte sabato prossimo a partire dalle ore 10 alla Montesi. Così il progetto è stato illustrato dalla dirigente Pettinari. L'idea è quella che quando i bambini lavorano, progettano, pensano, risolvono problemi, in questo caso incontrano anche l'arte, si educano al bello e quindi si prendono cura dei propri spazi, li conservano e soprattutto stanno meglio, perché l'idea è questa, è stare bene a scuola. Quindi questo progetto è stato realizzato, si sta realizzando adesso in fieri perché siamo partiti alla metà di aprile con il primo intervento di un artista. Artisti che sono arrivati qui, hanno lavorato con i bambini, hanno mostrato loro come lavorare, hanno realizzato delle opere, hanno realizzato le loro opere che poi lasceranno alla scuola e le opere dei bambini che andranno a realizzare una galleria d'arte contemporanea qui da noi. Il tutto è stato realizzato su input di Alessandro Barulli, un genitore titolare di una galleria online. Tecniche realizzative diverse, perché andiamo dalla spatola, andiamo all'illustrativo, andiamo al materico e che hanno consentito a questi bambini di provare a replicare le opere dell'artista aggiungendo la loro creatività. Tutto questo ha portato alla realizzazione di opere degli artisti che poi saranno donate alla scuola, quindi rimangono di proprietà della scuola e alla realizzazione di 12 tele di dimensione un metro per un metro fatte dalle singole classi. Oltre a questo abbiamo anche la parte esterna che è fatta di street art, per cui anche dall'esterno si vedrà una traccia del passaggio delle classi quinte che lavoreranno su delle colonne e faranno dei murales. Ho visto tanti sorrisi, tanta bellezza, ma non solo negli artisti e nelle bambine e nei bambini, ma anche nel personale scolastico, la stessa dirigente e anche nel personale non scolastico che alla fine ha dovuto pulire tutto il disastro di colori che noi abbiamo lasciato in giro. Quindi grande felicità. E vi annuncio che lunedì prossimo chiuderemo la stagione 2022-2023 di Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri. Come sempre potrete intervenire in diretta o inviarci un breve messaggio di testo su WhatsApp. Tra poco invece andrà in onda uno speciale sulla conferenza stampa di presentazione del Carnevale storico di Fossombrone, o meglio il trionfo del Carnevale, a seguire due speciali della Confederazione Italiana Agricoltori. Il primo dedicato alle operazioni sulle colture da seme biologico, mentre il secondo sulle difficoltà e i vantaggi nella produzione biologica delle colture ortive da seme. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata su Fano TV.